Onestamente potevo fare anche qualcun altro in più però l'importante era domenica ovviamente vincere a tutti i costi perché sinceramente una squadra come una piazza come Cerignola non merita l'ultimo posto in classifica. Rinascita personale e di squadra per Giancarlo Malcore quella di domenica scorsa è stata la giornata delle prime volte della sua doppietta all'esordio con il Cerignola e della prima vittoria in questo campionato dell'audace rampa di rilancio scelta dall'attaccante Salentino classe 93 che in carriera ha toccato anche la B con Carpi e Cittadella e ha scelto di tornare in Puglia per riavviare il motore dopo le esperienze con Fermane Pergolettese in tribuna nella precedente uscita ufficiale del 18 ottobre al Poli contro il Molfetta. È tutto un punto interrogativo oggi come oggi però quando invece poi hanno dato l'ufficialità che finalmente si giocava beh io c'è sinceramente io ma ci posso anche dire c'è anche tutta la squadra c'è eravamo più che stracarichi nell'affrontare questa partita. Mettendo a confronto il rendimento nei primi cinque turni della scorsa stagione con quelli dell'annata 2020-21 si scopre che i punti di distanza sono due. Sette erano quelli del Cerignola targato Alessandro Potenza, cinque quelli dell'audace allestita da Michele Pazienza. Quella squadra prese il volo con il cambio di guida tecnica che portò in giallo-blu Vincenzo Feola. Quest'anno la dirigenza guidata da Luigi Caterino vuole fare invece della continuità un punto di forza della sua gestione per Malcore e i margini di crescita sono ancora ampi. Noi siamo una squadra che sa veramente giocare a calcio e quindi in porta ci arrivi. Io vedendo le partite in passato, le prime quattro giornate e poi anche l'ultima dove ho giocato io sarei arrivati in porta quante volte. Io l'ho buttata fuori e due volte me l'ha parata, una volta me l'ha salvata quasi sulla linea, però ti ripeto le azioni ci sono e in porta ci arriviamo. Domenica prossima intanto per il Cerignola sarà tempo di giocare il secondo recupero in sette giorni, questa volta sul campo del lavello di Karel Zeman. Tra le sorprese dell'avvio di stagione, alla ripresa del campionato, il calendario propone in serie Sorrento e Brindisi in casa, intervallate dal Casarano in trasferta. Direi che quattro partite all'inizio si possono già archiviare, dobbiamo ripartire dalla prestazione che abbiamo fatto col Portici.